Ma mangiatela tu la calce! Questa è la reazione tipica di chi scopre che nei trattamenti iniziali dello zucchero si utilizza la calce. E in effetti chi è che vorrebbe mangiare la calce? Nessuno, ecco. Però se siete tra quelli che hanno questo tipo di reazione, beh, forse la storia che vi sto per raccontare vi può interessare. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dove analizziamo scientificamente il cibo che mangiamo. Avete mai provato a impastare della farina di mais? È praticamente impossibile se non si aggiunge qualche altra sostanza. Tant'è vero che da noi la farina di mais pura si utilizza solamente per la polenta e questo impasto non è facilmente modellabile per fare altro. Se nell'area mediterranea la civiltà si è sviluppata a partire dai grani, principalmente il farro che era il vero grano dell'antichità, nella Mesoamerica, cioè quella zona che va dal Messico fino all'Honduras e al Nicaragua, la civiltà si è sviluppata a partire dal mais. Era alla base il mais della cucina zeca, poi di quella maia, e tuttora è alla base di centinaia di prodotti tradizionali, come le tortillas. Questa l'ho comprata al supermercato, contiene anche della farina di grano, ma in realtà le tortillas originali sono fatte solamente con farina di mais, così come tantissimi altri prodotti, come i tacos, le arepas, i tamales e così via. Com'è possibile impastare la farina di mais per ottenere così tanti prodotti anche se non contiene glutine? La differenza la fa il processo con cui tradizionalmente è trattato il mais, che si chiama nixtamalizzazione. Il processo di nixtamalizzazione consiste nel far bollire dei chicchi di mais maturo con dell'acqua in presenza di calce e cenere di legna. La calce o ossido di calcio, chiamata anche calceviva, è una sostanza alcalina pericolosa, bisogna stare attenti a non versarsela, a non gettarsela addosso. La cenere di legna contiene invece della potassa o idrossido di potasso, anch'essa una sostanza caustica. In Mesoamerica la calceviva si ottiene dalla cottura del calcare, che può essere ottenuto dalle rocce oppure dalle conchiglie. Non si sa esattamente quando il processo di nixtamalizzazione sia stato inventato, ma ci sono delle prove archeologiche che mostrano che fosse già utilizzato nel 1500 a.C. Probabilmente venne scoperto per caso, perché grazie a questo trattamento la farina di mais che viene prodotta, chiamata massa, è facilmente manipolabile e plasmabile per ottenere tutti i vari prodotti che vi dicevo. Quindi il mais viene trattato con della calce messa nell'acqua, opzionalmente anche della cenere, viene fatto bollire, le ricette tradizionali variano per quel che riguarda il tempo e la quantità, ma comunque insomma si tratta di fare una bollitura per almeno un'oretta con dell'acqua di calce, viene poi lasciata riposare anche per una giornata intera. Viene poi drenata via l'acqua con i residui di calce, i chicchi vengono sciacquati e ora sono pronti per essere macinati. La macinazione tradizionalmente avveniva a mano, si aggiunge un po' d'acqua e si produce appunto una farina che è impastabile immediatamente per produrre le tortillas oppure si può seccare e reidratare successivamente per ottenere degli altri prodotti. Il nome nixtamalizzazione deriva dal fatto che il mais trattato in questa maniera prima di essere macinato si chiama nixtamal e quindi ha dato il nome a questo processo. La bollitura alcalina ha dei vantaggi dal punto di vista gastronomico e probabilmente questo è il motivo per cui, dopo una scoperta fortuita, è stato utilizzato nei millenni successivi. Scioglie la parte esterna del chicco, questa pellicina vetrosa e molto dura, che rende molto difficile la macinazione dei chicchi di mais a mano. In più trasforma il mais generando una serie di aromi, di sapori che non sono assolutamente presenti nel mais che non è stato trattato con la calce. Il mais venne introdotto in Europa subito dopo il primo viaggio di Cristoforo Colombo nel 1492 e grazie alle sue altissime rese rispetto al frumento si diffonde subito, prima in Spagna, poi in Italia e nel resto d'Europa e da lì a pochi decenni arriva addirittura fino in Cina. Tuttavia gli spagnoli non importarono con il mais anche il processo di nixtamalizzazione. Forse pensarono che fosse un inutile rito, oppure non lo ritennero necessario dato che in Europa erano già presenti i mulini, quindi una tecnologia per macinare chiaramente prima il frumento e altri cereali e ora avrebbe macinato il mais in modo molto molto più efficiente di quello che facevano nella Mesoamerica. Per cui il mais cominciò a essere coltivato e consumato senza essere trattato con la calce. Questo, vedremo in un attimo, avrebbe avuto delle conseguenze tragiche nei secoli successivi. Dalla metà del Settecento il mais comincia a diventare preponderante nella dieta delle fasce più povere della popolazione, specialmente contadini che avevano praticamente solo quello da mangiare per sostenersi durante le lunghe ore lavorative nei campi. In Francia, in Spagna e nel nord Italia era praticamente l'unico mezzo di sostentamento e mangiavano anche 2-3 chili di polenta al giorno senza praticamente niente altro. Periodicamente in queste regioni scoppiavano delle epidemie di una malattia molto grave, la pellagra. La pellagra si manifestava con delle lesioni della pelle, una dermatite cutanea, della demenza, diarrea e spesso anche la morte. All'inizio dell'Ottocento le autorità avevano già notato una curiosa coincidenza. La pellagra era più diffusa, molto più diffusa, tra le popolazioni che si nutrivano praticamente solo di mais. Però non si sapeva se questo fosse un collegamento diretto, cioè se nel mais ci fosse qualche cosa che faceva male, oppure se era dovuto a una contaminazione dei terreni su cui era stato coltivato. Le vere cause della pellagra vennero scoperte solo nel 1937 quando nell'Università del Wisconsin uno scienziato, Conrad Elvejim, scoprì studiando l'analogo della pellagra nei cani, cioè la malattia della lingua nera, che questa malattia era causata da una carenza di una sostanza chimica, chiamata niacina o acino nicotinico. Quindi non era il mais a causare la malattia, ma la carenza di una sostanza chimica che da lì in avanti viene chiamata vitamina PP. PP sta per pellagra preventing. Le vitamine, voi sapete, sono sostanze chimiche di cui noi abbiamo bisogno per funzionare correttamente, ma che il nostro corpo non riesce a produrre da solo e quindi abbiamo bisogno di introdurle con la dieta. Immediatamente si iniziarono a trattare i malati di pellagra con acino nicotinico, cioè vitamina PP, e questi guarirono. Qualcosa però non tornava, perché facendo le analisi chimiche del contenuto di vitamina PP del mais, beh, non risultava che fosse particolarmente scarso di questo componente. D'altra parte nelle popolazioni mesoamericane non è mai scoppiata la pellagra, anzi sono vissuti per millenni utilizzando in gran parte solamente mais senza avere particolari problemi. Il puzzle venne risolto nel 1983 quando un chimico, Kenneth Carpenter, fece notare che sì, il mais conteneva la vitamina PP, tuttavia questa era legata all'amido nel chicco e quindi il corpo umano non era in grado di prenderla e assorbirla, non era, come si dice adesso, biodisponibile. Il trattamento con la calcia aveva l'enorme vantaggio di liberare la neacina dalla sua prigione di amido e renderla disponibile per il nostro corpo per essere assorbita. Questo ci dovrebbe far riflettere su una cosa. Quando noi vediamo la composizione nutrizionale dei vari alimenti non dobbiamo pensare che il nostro corpo sia sempre in grado di assorbire tutti i nutrienti che sono presenti nella tabella nutrizionale, perché purtroppo possono accadere cose di questo genere. Il secondo beneficio del trattamento con la calce del mais riguarda proprio il calcio. Come vi dicevo, una volta che viene trattato, viene lasciata bollire con l'acqua di calce e che poi viene gettata, il mais viene sciacquato, però una parte del calcio è penetrato all'interno del chicco che quindi aumenta il suo contenuto di calcio. Voi sapete che il calcio è un minerale di cui noi abbiamo bisogno. E quindi il trattamento con la calce aumentava anche la quantità di calcio che poteva essere reso disponibile alle persone che si nutrivano quasi esclusivamente con mais. Tenete presente che ancora oggi in Messico il consumo medio per anno per persona di tortillas è di circa 120 kg, quindi una quantità molto elevata. E nelle zone più povere le tortillas rappresentano più del 70% delle calorie giornaliere che introducono queste persone nella loro dieta e quindi il contenuto di calcio che deriva dalla calce che introducono con le tortillas è fondamentale per mantenere la buona salute. Io trovo questa storia estremamente affascinante e vorrei fare qualche riflessione. La prima riguarda il fatto che noi in cucina non siamo abituati a maneggiare e a trattare sostanze alcaline. Praticamente l'unica che utilizziamo e quasi esclusivamente in pasticceria è il bicarbonato di soglio che è solo leggermente alcalino. La stragrande maggioranza di tutti i cibi che noi consumiamo è acida. Praticamente con l'esclusione dell'albume, che è alcalino, tutti i cibi che noi consumiamo sono degli acidi. Quindi non siamo abituati a trattare con sostanze alcaline. Quindi forse un po' è anche per questo che sentire parlare di calce può far paura ad alcune persone. Se si va un po' a cercare però si trovano altri alimenti che hanno subito dei trattamenti con delle sostanze alcaline oltre al mais che vi dicevo prima. Per esempio la calce si utilizza in alcuni trattamenti di olive per togliere il sapore amaro. Chiaramente dopo il trattamento si risciacqua via, esattamente come si fa con il mais, non c'è assolutamente nessun problema. Un altro cibo che ha subito un trattamento alcalino è questo, un pretzel. Il pretzel vedete che ha la colorazione bruna e il pretzel viene trattato proprio prima della cottura con idrossido di sodio, con della soda. Anche questa chiaramente è una sostanza caustica per cui bisogna stare attenti quando la si maneggia e non bisogna insomma trattarla con leggerezza, ma d'altra parte è la stessa cosa che si fa con, non lo so, l'olio bollente. L'idrossido di sodio è anche indicato in etichetta con la sigla E524, fa parte della categoria dei correttori di acidità, così come l'idrossido di calcio, cioè la calce quando è trattata con acqua, che si trasforma in idrossido di calcio, è indicata con E526. Non sono sostanze velenose o tossiche, sono sostanze che quando sono concentrate possono essere caustiche, esattamente come gli acidi, ma che si possono diluire e lavare via e non lasciare alcun tipo di traccia, quindi un cibo che è stato trattato con idrossido di sodio o di idrossido di calcio non è diventato improvvisamente velenoso, come qualcuno pensa. Se siete appassionati di cucina cinese o giapponese vi sarà capitato, per esempio, di assaggiare della pasta in brodo, per esempio del ramen. Beh, sappiate che in questo caso la sostanza alcalina, che è normalmente il carbonato di sodio o il carbonato di potassio, che è più alcalino del bicarbonato che noi utilizziamo normalmente in pasticceria, questa sostanza è stata aggiunta direttamente all'impasto. Un altro prodotto che è trattato con delle sostanze alcaline, anche in questo caso con un carbonato, il carbonato di potassio di solito, è il cacao. Il normale cacao in polvere che compriamo nella confezione, se notate, ha un colore che è diverso da quello del cioccolato, a volte è più rossiccio. Beh, questo perché ha subito quello che si chiama il processo olandese, che è un processo inventato da Conrad Van Houten, un chimico, che consiste appunto nel trattare con una sostanza alcalina del cacao allo scopo di renderlo più solubile in acqua. Ma torniamo alla frase iniziale, mangiatelo tu lo zucchero trattato con la calce! Beh, effettivamente la calce è utilizzata in una delle fasi iniziali del trattamento sia del zucchero di barbabietro che dello zucchero di canna. A parte l'idea errata che sia solo lo zucchero bianco essere stato trattato con la calce, in realtà anche gli zuccheri scuri ormai sono trattati con la calce, per cui anche per esempio il muscovado ha subito un trattamento iniziale con la calce. Ma a parte questo, c'è in qualche modo l'idea che siccome la calce è pericolosa ed è effettivamente pericolosa quando usata concentrata, se cade sulla pelle o negli occhi, in qualche modo possa trasferire questa pericolosità ai prodotti che abbiamo trattato con questa sostanza. Cosa che, come vi ho spiegato, è assolutamente priva di senso. Anche perché, tecnicamente parlando, una volta che prendiamo l'ossido di calcio, cioè la calce viva, e lo mettiamo in acqua si forma la cosiddetta calce spenta o, se è un po' più diluito, il cosiddetto latte di calcio, cioè ioni calcio e ioni idrossido. Sono gli stessi che noi vediamo, non so, sulle tabelle della composizione dell'acqua in bottiglia. Spesso mi capita di sentire persone che magnificano le proprietà nutrizionali dello zucchero muscovado dicendo, vedi, contiene anche del calcio che invece non è contenuto nello zucchero bianco. Queste persone poi non sanno che il calcio nello zucchero muscovado ci arriva perché è un residuo del trattamento di lavorazione con la calce. Quindi, paradossalmente, nel tanto vituperato zucchero bianco i residui della lavorazione con la calce vengono eliminati. Invece, nello zucchero bruno come il muscovado i residui della lavorazione della calce rimangono dentro e vengono magnificati proprio dalle persone che invece sospettano del trattamento con la calce che ha subito lo zucchero bianco. La seconda considerazione è questa. È giusto dire che stiamo mangiando calce quando mangiamo una tortilla o che stiamo mangiando soda quando mangiamo un pretzel. No, non è vero, tecnicamente non è assolutamente vero e chiunque voglia, diciamo, convincervi di questo o è ignorante di chimica o è un cialtrone oppure è un furbacchione perché vuole sfruttare quello che io chiamo il marketing della paura per vendervi qualche cosa, qualche cos'altro. È molto facile usare la paura come strumento di marketing negativo. Ah, ma mangiatelo te questo prodotto che è stato fabbricato con delle sostanze che usano per fare il sapone e un anticongelante da strada. Beh, stiamo sempre parlando del pretzel perché il sale è usato come anticongelante da strada per, diciamo, d'inverno viene sparso per eliminare il ghiaccio e la soda è utilizzata per fare il sapone. Questo è un tipo di comunicazione truffaldina ovviamente che vuole scatenare delle emozioni, vuole spegnere il cervello e che si struttura sempre nella stessa maniera è sfruttatissima in campo alimentare ma anche per esempio in campo cosmetico. si sceglie un utilizzo della sostanza che si vuole demonizzare che è il più lontano possibile da, per esempio, l'uso alimentare e si rimarca questo fatto come se questa caratteristica fosse intrinseca di quella sostanza mentre in realtà le sostanze chimiche hanno migliaia, decine di migliaia, milioni a volte di utilizzi diversi e non è un unico utilizzo che li caratterizza. Quindi, insomma, ancora una volta cerchiamo di andare oltre la paura che ci vogliono mettere e cerchiamo di chiederci perché cercano di instillarci la paura di alcuni alimenti perché quasi sempre, come diceva qualcuno, follow the money, no? Segui i soldi, vai a vedere cosa c'è dietro e si scopre che la paura viene instillata perché ti vogliono vendere qualche cos'altro. Per oggi ho finito, il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta. Ciao, adesso vado a farmi una chesadiglia. Grazie. Grazie. Grazie.